di Cosmico 280 in discesa dal 330 Amon USM quando mancano 100 metri allo stacco della macchina e si parte Desio prova a prendere l'iniziativa al suo interno c'è Artex che scavalca invece Casanova B e Black Mamba Sun Desio insiste su Artex e prende il comando proprio dopo 200 metri lancio in 14 secchi avanza subito Amon USM che si trascina Cosmico Polare a chiudere Black Mamba Sun cavalli affrontano così la prima curva ritmo non eccessivamente alto perché i 400 metri se ne vanno in 29 spaccati Artex sempre secondo con allargo Amon USM quindi Casanova B e Cosmico Polare resta più indietro Black Mamba Sun 600 metri di Desio in 43-2 addirittura in allungo un 14-1 col quale deve sopperire all'attacco di Amon USM che si trascina Casanova B a chiudere sempre Cosmico Polare metà gara in 58 il galoppo di Amon USM numero 5 squalificato resta così davanti Desio con i scia Artex all'argo Casanova con i scia Cosmico Polare il chilometro di Desio in 1-12-1 deve respingere Casanova B cui attacco si fa sempre più intenso Artex senza spazio Cosmico Polare che adesso deve costretto a fare la terza ruota perché se non resta fuori dalla finale prova ad allungare Desio a scrollarsi di Casanova che insiste a largo Artex senza spazio Cosmico Polare che deve andare per forza a centro-vista il galoppo di Casanova B e allora Desio deve respingere l'attacco simultaneo di Artex di Cosmico Polare che tende a passare Cosmico Polare prende nettamente la meglio quando mancano meno di 100 metri d'arrivo e taglia il traguardo da vincitore su Artex e Desio Uno